Mi chiamo Elisa Trucchia e faccio l'ultimo anno del liceo d'arte con sezione di cinema e fotografia. Il prossimo anno andrò a fare l'accademia sempre con sezione NTA che sarebbe sempre tutto inerente al cinema e alla fotografia. Lavoro con mio fratello che ha uno studio fotografico e mi chiama per fare dei video backstage, still life, tutte cose inerenti alla fotografia o al cinema. I miei lavori si possono trovare sul sito ATDS Lab, però con il nome di mio fratello e non il mio, oppure sui vari canali di YouTube inerenti alla marca o alla persona desiderata.